gloria a dio insieme con la parola di dio insieme per la parola di dio noi vogliamo edificare le nostre vite sulla parola di dio è un fondamento solido stabile non abbiamo nulla da inventarci il signore ci ha dato la sua parola e di questa parola vogliamo fare la base il fondamento della nostra esistenza in questa parola noi troviamo molte perle troviamo molte cose preziose che naturalmente possono diventare patrimonio per ciascuno di noi patrimonio per ognuno di noi ad esempio nella scrittura troviamo il forte desiderio di dio di farci del bene vedi dio non vuole fare del male il suo desiderio non è far del male alla sua creatura ai suoi figli il desiderio di dio è farci del bene e continuamente noi nella parola del signore troviamo inviti invite tutti questi inviti che il signore ci fa tutti questi inviti che il signore ci rivolge sono inviti che desiderano in qualche modo portare beneficio all'anima nostra quando lui ci invita ad andare a lui quando lui ci invita a fare delle scelte quando lui ci invita a prendere delle decisioni ci dà anche degli indirizzi su come comportarci su come agire su come operare su come fare in tutto quello che il signore ci chiede o ci indica c'è sempre il desiderio il grande desiderio di dio di farci del bene ed è importante che noi teniamo conto dei suoi inviti stiamo considerando ancora questi primi versi del capitolo 43 del libro del profeta isaia e tra le varie cose che possiamo trovare tra le varie preziosità c'è anche un invito un invito a tornare al signore un invito a al signore questo invito a tornare al signore lo fa il signore la parola a coloro che in modo particolare sono stati i suoi figli ai suoi figli che si sono allontanati ai suoi figli che hanno preso poi lungo il cammino un'altra strada e lo vediamo nei versi 6 e 7 dirò al settentrione da e al mezzogiorno non trattenere fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra tutti quelli cioè che portano il mio nome che ho creati per la mia gloria che ho fermati che ho fatti il desiderio di dio e che noi possiamo veramente centrare l'obiettivo per cui il signore ci ha creato qui dice la scrittura che siamo creati per la gloria di dio e se noi portiamo il nome di dio perché abbiamo fatto di gesù il nostro personale salvatore ebbene che in qualche modo rimaniamo nel signore camminiamo con gesù e facciamo la sua volontà oggi stamattina voglio rivolgermi in modo particolare a coloro che si sono allontanati dal signore a volte accade si fa un tratto di strada nelle vie del signore e poi ci si allontana e l'allontanamento a volte si può in qualche modo addurre a determinate motivazioni ognuno che si allontana ha le sue motivazioni cerca sempre di renderle più forti in modo da giustificare la propria decisione il proprio allontanamento ma il signore dice che ti vuole vicino a sé egli ti invita a ritornare e io voglio dirti caro fratello che ti sei allontanato o caro fratello che vivi ai margini della chiesa di dio della volontà di dio a tornare al centro della volontà di dio quindi voglio dirti ritorna caro figlio che sei lontano dalla casa del signore forse un tempo amavi la comunione fraterna amavi stare col popolo di dio forse c'è stato un tempo in cui veramente non vedevi l'ora di ritrovarti con altri per servire il nome del signore ma poi è successo qualcosa qualcosa che ti ha indotto ad allontanarti dalla casa del signore ad allontanarti dal popolo di dio ad allontanarti dagli altri figli di dio ma sappi che il signore in questo momento ti sta dicendo ritorna figlio che sei lontano dalla casa di dio quando parlo dalla casa di dio non mi sto riferendo naturalmente un edificio mi sto riferendo al popolo di dio mi sto riferendo ai mattoni viventi che sono i figli di dio che formano la sua casa dio ti dice ritorna ritorna perché nella casa di dio insieme al popolo di dio egli ha stabilito delle benedizioni nella casa del signore c'è grande gioia c'è benedizione quando siamo insieme realizziamo la benedizione di dio ma nella casa del signore insieme c'è la manifestazione della gloria di dio quando siamo insieme nella casa di dio uniti come casa di dio possiamo combattere insieme e possiamo vincere insieme nel nome del signore quindi ritorna caro figlio che sei lontano dalla casa di dio ma ritorna anche figlio che sei lontano a causa del tuo carattere a volte accade che alcuni hanno un buon inizio nelle vie del signore poi a causa del loro carattere che non permettono al signore di lavorare allo spirito santo di modellare poi magari a causa di qualcosa che succede con qualcuno ecco che decidono di allontanarsi o pensano che per loro è impossibile rimanere lì perché non riescono a sopportare determinate cose ma quello che voglio dirti è che nessuno di noi è perfetto e se tu stai sopportando qualcuno sicuramente qualche altro sta sopportando te e se l'allontanamento dal signore è stato a causa del tuo carattere a causa di qualcosa che tu hai fatto di qualcosa che ti hanno fatto sappi che il signore ti sta dicendo di ritornare perché il signore vuole modellarti vuole aiutarti vuole sostenerti vuole darti tutto quello di cui tu veramente hai bisogno quindi ti dico e ti chiedo di permettere allo spirito santo di dimorare nella tua vita ti chiedo di abbandonare il tuo cuore il tuo carattere la tua mente la tua persona all'azione potente del tuo spirito e il signore è capace e desideroso di renderti più forte e lo spirito santo ti potrà modellare sempre di più all'immagine di cristo gesù il signore il carattere che noi vogliamo avere è il carattere di cristo perché vogliamo sempre di più assomigliare a cristo gesù il nostro prezioso salvatore lui è il nostro modello lui è il nostro eroe ma poi voglio dire ancora ritorna figlio che se lontano a causa della prova vedete sono tante le prove che possiamo affrontare lungo il corso della nostra vita e credo che non è una novità dire che la vita qui sulla terra non è semplice molte volte proprio complicata e proprio difficile ci dobbiamo misurare con delle situazioni più grandi di noi ma gloria a dio se siamo figli di dio possiamo contare sull'aiuto del signore ma nella prova non sempre si reagisce in allo stesso modo io credo che ciò che fa la differenza nella prova è la nostra reazione come noi l'affrontiamo ciò che fa differenza non è la grandezza o la piccolezza della prova ma ciò che fa la differenza è come noi l'affrontiamo alcuni nella prova si fortificano nel signore conosco ancora di più l'amore la grazia di dio ma purtroppo altri nella prova soccombono e allora si allontanano pensando che dio li abbia abbandonati che dio li abbia lasciati quello che voglio dirti è che dio non ti ha mai lasciato e se anche dovuto affrontare una prova dura anche se ti è sembrato che eri stato lasciato solo dio non ti ha lasciato e non ti ha abbandonato e la prova ne è nel fatto che egli ti sta dicendo adesso ritorna mio figlio perché io ti cerco ti voglio bene ti voglio ancora tra le mie braccia voglio continuare l'opera che ho iniziato nella tua vita ritorna figlio il padre ti sta aspettando perché il desiderio di dio è di averti con sé di averti con sé qui sulla terra e già il fatto che noi siamo con lui e lui è con noi è una grande abbondanza di bene ma non è ancora finita perché nel cielo saremo con il signore per tutta l'eternità è bello vivere con il signore oggi ed è bello pensare credere questo avverrà sicuramente che se oggi vivremo con lui vivremo con lui anche per tutta l'eternità quindi caro fratello cara sorella caro giovane che forse per un motivo o per un altro motivo ti sei allontanato da dio sappi che il signore attraverso queste parole ti sta dicendo ritorna figlio che sei lontano e gesù ti garantisce qualcosa di straordinario egli dice colui che viene a me io non lo caccerò fuori se tornerai al signore sarai accolto dal signore allora cosa stai aspettando ritorna figlio che sei lontano il signore ti benedica il signore ti benedica il signore ti benedica